resto sul layer marciapiede per mostrare la misurazione continua misurazione continua mi dà la possibilità di andare a battere punti secondo le impostazioni che abbiamo definito precedentemente ecco il momento in cui mi sposto siccome ho messo di battere un punto ogni pot adesso vedremo che man mano che io cammino e viene raggiunta la come dire vengono calcolati metri che ho impostato di default vengono battuti punti quindi adesso sono sul marciapiede e sto camminando ecco man mano che cammino vengono battuti punti secondo le impostazioni che abbiamo inserito se clicco di nuovo sul tasto misura continua stoppo questo comando eccomi qua posiziono l'antenna in modo da essere un po più comodo diminuisco lo zoom per vedere il lavoro che ho fatto con la mia mappa sotto disattivo anche un attimino le mappe del catastro così siamo un po più veloci eccoci qua questo è il lavoro che ne abbiamo fatto